Hai un manoscritto e non sai a quale editore rivolgerti? Hai pubblicato un libro e vuoi farlo conoscere? Vorresti che la tua opera diventasse un film o un documentario o venisse rappresentata in teatro? Vivere e raccontare potrebbe aiutarti. Come? In studio, con me e con te, editori, registi, produttori esprimeranno i loro pareri sul tuo progetto. E Aracne TV mandare in onda l'intervista. Vivere e raccontare, tutti i giorni dalle 15 alle 15.30 su Aracne TV. Ah, dimenticavo. Vivere e raccontare è un programma dedicato a tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo. Scultura, pittura, architettura, fotografia, fumetto, musica, danza, cinema e teatro. E naturalmente letteratura. Nell'incipit del romanzo L'albero secolare, la vita centenaria del protagonista è presentata come una storia comune del XX secolo, negli anni che vanno dal 1899 al 1999. L'albero secolare a cui fa appunto riferimento il titolo, in realtà è un platano che il padre del protagonista ha piantato nel momento in cui il figlio nasce e che ricompare nel romanzo dopo cento anni, quando la vita del protagonista conclude. Autore di questo romanzo è il professore Antonio Venditti, che oggi è qui con noi a vivere e raccontare per la seconda volta. Buongiorno. È merito suo, maestro. Il merito è suo che scrive tanti romanzi. Allora, ricordiamo un attimo il romanzo di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Il bandito della regina. Il bandito della regina, che vorrei ricordare mandando in onda la copertina. Invece oggi si parla di questo albero secolare e questo è il titolo, la copertina e il romanzo. La vita del protagonista che si chiama? Primo Lanterna. Primo Lanterna va dal 1899 al 1999. Insomma, è uno dei ragazzi, come si dice, del 99. Sì, c'è un capitolo che parla proprio di questi ragazzi. Perché ha partecipato, giovanissimo, a 17 anni, alla prima guerra mondiale. Questo romanzo lei lo ha scritto, diciamo, rispetto alla sua vita e carriera letteraria, tardi. Sì, l'ho scritto nel 2012, subito dopo la prima edizione del bandito della regina. Quindi c'è un collegamento. Perché io ero ancora immerso in un'atmosfera storica. Alla storia dell'Ottocento seguiva quella del Novecento. In un contesto italiano, ma che si apre, insomma, a tutto il mondo. Perché trattando di due guerre, appunto, mondiali. Però lei parla invece di una storia comune, la definisce così. Storia comune del XX secolo. Ma perché comune? Ecco, perché il protagonista, Primo Lanterna, è un uomo comune. che è molto attento agli avvenimenti e si interroga su questi avvenimenti e cerca di scoprire una verità. La verità che lui concepisce nella maniera giusta, cioè la verità non è monopolio di nessuno. La verità si raggiunge attraverso il confronto delle opinioni. Ma il suo atteggiamento nei confronti di questa, diciamo così, riflessione su tutto è da uomo comune. È uno di noi. Non è un politologo, un esperto, uno studioso. È semplicemente una persona che vuole sapere, vuole conoscere. Che vuole conoscere, quindi ha un senso elevato dell'esistenza. Quindi cerca un significato nella vita e nell'incontro con le persone. Ecco, quindi parliamo un po' di questo significato perché si intuisce almeno uno dei temi che è quello che riflette sul fatto che il passato non si esaurisce mai ma diventa invece il fondamento importante per il presente. Esatto. Questo è uno dei temi, no? Ecco, cioè lui è nato a Roma, vive sempre a Roma anche se in diversi luoghi. Praticamente nasce in un borgo dell'Aurelia, poi in un metaforico filo attraversa tutta Roma il centro, vive nel centro e vive negli ultimi, nell'ultimo periodo della sua vita, proprio al confine tra il territorio di Roma e i castelli romani. Vive quindi a ridosso dell'Appia Nuova. Quindi questo filo va dall'Aurelia attraverso il centro storico, arriva fino all'Appia Nuova, dove è la sua casa, la casa che lui ha comprato e ha restaurato e ha adattato alle sue esigenze ed è anche il territorio della famosa Repubblica di Roma Nostra. Nel senso, lei ha detto, del metaforico, no? Questo filo è metaforico. E' metaforico, certo. Quindi Roma, per lui, che la guarda con occhi incantati, è un libro aperto. Ed è il libro che lui studia. È un libro aperto su che cosa? Sulla storia, sull'arte, sulla bellezza. Di questo secolo che lui ha attraversato interamente. La bellezza non tanto del secolo, perché poi sul secolo il giudizio è un giudizio molto severo. Ma sulla storia. Sulla storia e su questo privilegio di vivere nella città eterna, di cui, proprio con gli amici dell'associazione, vorrebbe riscoprire la grandezza, la bellezza, superando le situazioni di degrado che non mancano. Primo Lanterna, leggo, è vissuto immerso intensamente nello scorrere degli eventi, che ha annotato indelebilmente nella sua coscienza e ha trovato in sé stesso sempre la forza di resistere e non è precipitato respingendo le forze malefiche. Minuscolo essere dell'universo, non ha smesso mai di credere nella vita e ha mantenuto la speranza nell'avvenire dell'umanità. Perché lui vive in un secolo travagliato dalle due devastanti guerre mondiali e poi questo secolo non supera la violenza, si immerge ancora nella violenza che porta addirittura... Una seconda volta è in maniera ancora più... E che porta addirittura alle manifestazioni terroristiche che hanno funestato, soprattutto gli anni 70, ma durano, sono durate anche successivamente. E il personaggio mi ricorda il candido Rivoltère, per questa sua capacità di riflettere sulle cose e con molta semplicità, con una sorta di ingenuità esistenziale. Indubbiamente ci sono riferimenti, c'è questo ed altri riferimenti che un mio amico letterato ha fatto, no? Per certi versi anche il film con Peter Sell, Oltre il giardino, non so se lei lo ricorda. No, io in questo momento non lo ricordo. Con delle annotazioni, delle riflessioni molto semplici, riusciva a dire delle cose che venivano appunto interpretate come delle considerazioni importantissime. C'è questo atteggiamento ancora una volta semplice, da uomo comune rispetto a delle riflessioni sulle quali uno potrebbe scrivere pagine, pagine, pagine di saggistica. Il protagonista di questo romanzo, diciamo, sta proprio su questa strada e i suoi amici sono tutti uomini semplici. Se lei va a vedere i personaggi dell'associazione, è un'associazione culturale, la Repubblica di Roma Nostra, di persone che... Molto naif, molto ruspante. Sì, basta vedere i personaggi. Già il pittore che è stato l'ideatore, il pittore Girolamo che è stato l'ideatore di questa Repubblica, è un personaggio stranissimo, diciamo un barbone che dorme all'aperto tra i ruderi e allora però, come dire, dentro di sé ha saputo ritrovare, ha saputo ricomporli e ha saputo dare un contributo di grande rinnovamento culturale alla popolazione di Roma. Quindi Girolamo, poi il suo nipote è Cornelio, Cornelio che è un attore che fa le comparse a Cinecittà, è il centurione perché per vivere si fa fotografare, eccetera. Però anche lui ha questo amore del sapere e della bellezza perché conosce a memoria tutto trilussa. Sono personaggi del popolo, ma il popolo non è nel pensiero del protagonista un'astrazione. Il popolo è fatto di persone, di persone vere, persone che non sapranno di politica, non avranno una cultura libresca, però hanno la cultura, hanno frequentato la scuola della vita come ha fatto primo e poi hanno questa curiosità che li spinge a sapere e riescono a percepire la grandezza di Roma. Ma lei ha avuto corrispondenza, ha incontrato queste persone? Sì, anche perché io mi ritengo una persona del popolo e il travaglio di questo ragazzo che diventa orfano a dieci anni deve lasciare la scuola. C'è qualcosa di autobiografico? No, io pure sono stato orfano, però non ho nemmeno conosciuto mio padre che è morto quando io avevo un anno. Quindi capisco tutta la difficoltà di un ragazzo che non ha questo riferimento con la figura paterna, anche se è sostitutiva la madre che deve assumere anche il ruolo del padre ed ecco allora anche il grande attaccamento, il grande affetto per la madre. Non so se lei ha notato il funerale della madre, immaginario, no? Immaginario, ecco, che stando a Roma, insomma, lui era vissuto poi in San Giovanni in Laterano dove si era rifugiato durante la guerra e quindi quando ha notizia della morte di questa dolcissima madre come è dolcissima la madre di ognuno di noi e allora sogna un funerale fatto addirittura con le statue che scendono, no? A cominciare dal Cristo che scende e poi un funerale celebrato dal Papa. Le trea che diramano dal platano sono gli affetti, gli affetti familiari, le amicizie, le amicizie e gli amori. Ora, il platano della sua morte non è quello della sua nascita perché lui era vissuto sull'Aurelia, abbiamo detto che si sposta all'altra parte di Roma. Ah no, beh certo. E allora però stranamente ha trovato una casa in cui c'è questo platano e allora lui nel restaurarla e nel sistemare il giardino traccia tre sentieri che si diramano dall'albero, dal platano. Il sentiero... Che lui ripercorre in qualche modo e che lo portano al platano dell'inizio. Al platano e lui muore sotto il platano. Abbiamo detto, ha detto che la morte della madre non la può ricordare, quindi può soltanto sognarla, ma la morte del padre invece incide in qualche modo nella sua vita. In che modo? Questa famiglia viveva in una villetta periferica che il padre diceva di avere acquistato, diceva di avere acquistato, muore il padre all'improvviso in uno scuro incidente, non si sa per quale motivo è morto e dopo il funerale vengono subito i veri proprietari della villetta a dire guardate che la villetta è nostra, quindi la vedova giocondina con i sei orfani deve lasciare la casa e va ad abitare con i genitori che vivevano però in un appartamento minuscolo. Il titolo del capitolo è Stretti in famiglia e indica proprio la mancanza di spazio, ma nel stesso tempo vuole anche indicare i rapporti stretti che esistevano tra di loro, nonostante le infinite difficoltà. Primo ha una ripercussione diretta perché deve lasciare la scuola, lui aveva frequentato le prime due classi degli elementari, ma le aveva frequentate con grande profitto e il ragazzo è costretto a lavorare, diventa garzone di bottega, prima fa il macellaio, poi il carbonaio, il fornaio, il falegname e il manovale prima di partire per la guerra. Ma questo lo aiuta a capire la vita, a comprenderla? Senz'altro. La famiglia di Primo Lanterna è una famiglia normale, perché lui vive nella normalità, abbiamo detto che è un uomo comune. In questa famiglia lui viveva in grande serenità, anche se la famiglia era di per sé problematica, una famiglia numerosa, padre, madre e sei figli, e non so se mi spiego, no? Tra la madre Giocondina e il padre Porfirio c'è un grande attaccamento, quindi si sono sposati veramente per amore, però contraria a questo matrimonio era la madre di Giocondina, Sora Cesira. Quindi parliamo della nonna del protagonista. diceva alla figlia, questo giovane è inaffidabile perché non parla della sua famiglia, noi non sappiamo, non è del posto e non ci dice nemmeno i nomi dei suoi familiari. a differenza di Sora Cesira, Fidelmo, che era il nonno, il marito, e Fidelmo invece era abbagliato dalla... Scusi, mi sono perso, che era il marito della suora? Della... era il nonno. Ma il nonno... Il nonno di... stiamo parlando di Primo, della famiglia di Primo. Sì, ma lei ha detto poco fa che la suora... No, Sora, 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 come si chiamano a Roma le persone. Ah, no, ve l'ho detto la suora, sì. Sora. Sora Cesira, no? Siamo a Roma e quindi si parla. Quindi il nonno diceva... Fidelmo invece era abbagliato dalla parlantina del giovane e che faceva vedere però l'ucciole per lanterne. Comunque... Apprezzava, diciamo, la sua fantasia. Sì, comunque il grande dissidio tra la suocera e il genero si sviluppa a proposito dei nomi imposti ai figli. Perché lui sceglie i nomi numerici che a Sora Cesira proprio non stanno bene. Accetta tutt'al più Primo, perché è il primo genito. Poi a cominciare da Seconda, lei la chiama in un altro modo. La chiama Maria, che era il nome di sua madre. Invece il suo nome vero è Seconda. È Seconda, il padre ha voluto che si chiamasse... Terzo. È terzo e la suocera diventa Ciro, che era il nome di suo fratello Garibaldino. Quarto diventa Nico, che era il diminutivo addirittura di suo padre. Però, quando nasce il quinto figlio... Quintino. Che si dovrebbe chiamare Quinto. E allora, ecco, diciamo, una trovata del genero, che si diverte a discutere con la suocera. Dice, beh, questo non lo chiameremo più con un numero, non sarà più un numero, ma non avrà nemmeno il nome di un santo o di un parente. Avrà il nome di Florio, nome botanico. E il sesto si chiamerà Lollo, che era il nome di un cavallo. E quindi è un personaggio divertente. Allora, invece, per quanto riguarda la sua vita sentimentale... Primo, essendo un uomo, l'abbiamo definito... Ecco, ripartiamo sempre dalla definizione. Comune. Comune, normale. Ha una fidanzata comune. Avebbe desiderato sposarsi. E non si è sposato, perché le circostanze della vita non glielo hanno consentito. Però ha avuto vari amori. Io descrivo i più significativi, che sono sei, però. Come i figli. Come i figli, ah, non ce l'avevo pensato. Allora, il primo amore è Teresina, che è la figlia del fornaio. Una ragazza sempre elegante, perché erano ricchi. No? E quindi sempre con il cappellino, con le scarpe particolari. E quindi lui è attratto anche da questi elementi. È un amore adolescenziale, che si concretizza, però, soltanto quando lui sta per partire per la guerra. E allora è un amore appassionato, però velato da grande tristezza per le incognite che si aprivano, no? Dopo la partenza del ragazza del ragazza. Quindi non avrà più rapporto con questa prima fidanzetta. Passerà alla seconda. No, lui era restato innamorato. Ma abbiamo parlato di sei, quindi bisogna passare alla seconda. Sì, però lui era restato innamorato di Lisetta. Però quando torna dalla guerra, torna trasformato. Perché? Perché questa esperienza, io dico che la generazione dei ragazzi del 99 è la più infelice. Perché questi ragazzi sono stati immessi all'improvviso nel circuito infernale della guerra. E su quei campi di battaglia regnava la morte, la dama nera. Il mostro, non ne abbiamo parlato. Ma ne parleremo. Ma è emblematico. Il minotauro. Il minotauro, ecco, ne parleremo. Quindi, lui è innamorato ancora. Però, domanda alla sorella, ma hai visto, perché era amica della sorella Maria, hai visto Teresina? Si è sposata. Beh, no, veramente. Tergiversa, ma... E poi viene a sapere che era promessa sposa al figlio del macellaio defunto, che poi diventerà il gerarca locale, no, nel periodo del fascismo. E quindi si consola con le altre cinque, diciamo. No, lui entra in crisi, in una tremenda crisi. Un giorno la incontra. La incontra. E la guarda, lei abbassa gli occhi, e allora lui si rende conto che questa ragazza non meritava più il suo amore. Perché sì, saranno stati anche i condizionamenti familiari. Però lei ha scelto poi un personaggio di scarso valore, anzi di nessun valore. Allora, torna alla bottega del falegname. Il falegname era Alfonso, un che aveva la fama di Don Giovanni. In realtà era timido e non riusciva mai a concludere con nessuna ragazza. Allora, un giorno, Alfonso dice, guarda. Concludo io. Ci andammo a divertire. Lui intendeva di andare ad un bordello che era sull'Aurelia Antica. E in questo luogo lui incontra una giovane prostituta. E hanno soltanto due incontri. In questi due incontri però nasce un amore. Ha tutti i caratteri dell'amore, però è un amore destinato a concludersi con la stessa velocità con cui era nato. Quindi la seconda donna è Lisetta. Perché la ragazza si chiamava Lisetta. Benissimo. Allora, trascuriamo le altre quattro. Invece lei prima faceva riferimento al gerarca, al macellaio gerarca, che lo ha in qualche modo perseguitato. Sì. Ecco, vogliamo raccontare come riesce a liberarsi di questa perseguizione. Allora, praticamente, quando nel 1925 nasce la vera e propria dittatura, no? A livello locale, il figlio del macellaio, che si era distinto nelle azioni punitive delle squadracce, fa carriera e diventa gerarca. E naturalmente Primo capisce che per lui si mette male, anche perché oltre ad essere stato già maltrattato ai tempi in cui lavorava nella macelleria del padre, lui è stato il fidanzato di quella che è già diventata sua moglie. E come riesce a liberarsi? Riesce a liberarsi perché? Anche da questa sorta di rivalità, perché poi c'è… Eh, di rivalità. Allora, lui comunque è costretto a far presto quando il gerarca fa sapere che tutti dovevano avere la divisa e tutti dovevano partecipare alle adunate del sabato, cosa che lui non accettava, non voleva fare, no? Perché abbiamo parlato di spirito libero, buono nell'animo, però aveva questi ideali di libertà, e c'era libertà, anzi l'opinione per lui era sacrosanta, il rispetto dell'opinione. Allora, viene a sapere, aveva fatto il manovale da un amico muratore, che esisteva una fattoria sulla Tuscolana, il cui proprietario dava lavoro, insomma, cercava dei bravi lavoratori. Lui va in questa fattoria, dove viene accolto dal capofamiglia Cristoforo molto bene, gli assegna una cameretta addirittura, poi è un luogo dove si mangia tre volte al giorno, abbondantemente. Cosa miracolosa in cui… Ecco, e poi viene retribuito e quindi può mandare… Quindi mangia e viene anche pagato. Pagato e può mandare dei soldi a casa. Per di più nasce un amore, perché la nipote… Ecco, vogliamo l'aspettare. Ogni lavoro che trova c'è una novità. Era un bell'uomo, era un bell'uomo, affascinante, dimostrava molto meno degli anni che aveva. Difatti nessuno riuscirà fino all'ultimo a scoprire la sua vera età. Lei ha parlato prima del rapporto fra il protagonista e la prima guerra mondiale. Il suo rapporto con la seconda. E lui in questa seconda guerra non vuole andare, non vuole partecipare a questa… Gli era abbastata la prima. Gli era abbastata la prima e poi era contrario alla violenza, a questa violenza inutile che porta solo distruzione e morte. Allora riesce a non essere richiamato, perché c'erano i richiamati alle armi e non andavano solo i giovani di leva. No, quelli che avevano già partecipato alla prima. Allora lui doveva essere richiamato per la guerra d'Abissinia, per la guerra d'Etiopia, no? Sì. E lui proprio stando nella fattoria riesce ad evitare questo richiamo, perché nella sua stessa situazione si trovava il nipote del capofamiglia, abbiamo detto. E siccome il capofamiglia era ricco e autorevole, attraverso le sue conoscenze e dando molti soldi, riesce a non farli partire. A maggior ragione perché sua nipote Leda si era invaghita di primo ed era nata questa relazione che era una relazione nota ed accettata in famiglia. Quando ci sono le avvisaglie della seconda guerra mondiale, primo capisce che non riuscirà a liberarsi, anzi andavano in continuazione controlli proprio per capire se c'erano delle persone che stavano evitando la chiamata alle armi. Allora lui all'improvviso se ne va e abbandona quella povera Leda, come Teseo, non dico come Teseo, aveva abbandonato Arianna, però fu una partenza improvvisa, motivata, tant'è vero che non fu trattenuto dalla famiglia. Quindi lui se ne va una sera e dove va? Va a bussare alla casa del professore Alfio. Che ha una figlia. No, non ha la figlia. Quella no. Quindi non c'è questo pericolo. Va a bussare alla casa che abitava a Piazza Re di Roma. Allora Alfio lo fa entrare, però cercava di vedersi intorno perché gli stessi portieri, lei sa, il portiere... Potevano parlare, avevano la spia. Quindi lo fa entrare e poi gli dice guarda tu devi rimanere qui. In una settimana io la trovo una soluzione, però mi raccomando non ti affacciare nemmeno alla finestra. Ma la trova poi questa soluzione? Sì, perché Alfio aveva aderenze in Vaticano, poi era un seguace di Don Sturso, era iscritto al Partito Popolare e anzi poi diventerà addirittura uno della segreteria di De Gasperi quando ci sarà il governo di Alcide De Gasperi. E allora di notte escono e vanno a San Giovanni in Laterano. San Giovanni in Laterano vengono accolti da Suor Brigida che si dedicava proprio a quest'opera di accoglienza per le persone perseguitate e lui si ritroverà con l'ebreo Abramo e con il musulmano Omar. E saranno in perfetta armonia, sarà un esempio di come persone di diversa cultura, di diversa religione possono convivere pacificamente. Intanto lei ha arricchito il romanzo con dei dipinti di un suo amico. Sì, Agostino De Romanis. Agostino De Romanis e volevo mostrarli perché meritano di essere questo. Bene, sarà contento lui e sono contento io. Eccoli. Sono meravigliosi per me, perlomeno. Quando io scrivo qualcosa, gli mando il testo e gli dico Agostino, vedi un po' che cosa vuoi mettere in copertina e se puoi metterla nella suddivisione delle parti, inserire almeno due o tre dipinti. E quindi li scegliete insieme? E lui sì. Devono avere una corrispondenza? Io scelgo quello, io sto assolutamente a quello che lui dice perché secondo me è un grande artista. Certamente. Oh, facciamo un salto temporale e passiamo alla conclusione o comunque all'ultima parte della sua vita. Arianna, nel momento in cui incontra Arianna, che è un incontro fondamentale, importante anche se arriva alla fine. Tanto è vero che lei inizia il suo romanzo parlando di quest'Arianna. Arianna è la chiave di interpretazione di tutta la vita di Primo Lanterna e riconosce il filo che gli è stato offerto per uscire dal labirinto in tutti i momenti difficili e senza mai cedere al mostro vorace, al mostro vorace a cui il mondo non ha mai smesso di sacrificare le creature più belle e innocenti. Bene, allora, vediamo di seguire invece il filo che lega tutti i suoi romanzi. Questo non è l'ultimo, lei ne ha scritti altri e speriamo di poterne parlare al terzo e prossimo incontro. Grazie maestro, la ringrazio veramente. Grazie a tutti.